buonasera allora in questa sera siamo con Pino Nazio giornalista scrittore qualche amico di visione roma e che terrà una lezione sulla comunicazione negli enti locali nelle amministrazioni comunali abbiamo programmato con vendetta da Murini questa lezione partendo da una considerazione molto spesso le amministrazioni comunali danno una spiegazione rispetto alle critiche che dicevo del loro operato da una difficoltà nella incapacità di aver ben comunicato quanto è stato fatto ecco partiamo da questa considerazione per dare subito la parola a Pino Nazio che ci parlerà proprio di esperienze di cui è stato spettatore soprattutto quando la sua attività giornalistica a te la parola grazie di essere qui con noi a fare questa lezione grazie a te grazie a visione roma che offre la possibilità a chiunque poi oggi attraverso la connessione internet uno può veramente rivedersi con calma degli appuntamenti importanti e interessanti che in grado di mettere in piedi questo gruppo di persone che hanno a cuore sostanzialmente la città io ho diciamo tra virgolette una doppia veste in questo momento nel senso che sono sempre stato attratto attirato appassionato di comunicazione ma sostanzialmente sono un sociologo della comunicazione la mia formazione universitaria i miei studi universitari e non solo anche le specializzazioni sono rivolte alla comunicazione in particolare alla comunicazione televisiva tenendo conto che però c'è sempre stato un pallino legato alla comunicazione istituzionale avendo poi fatto anche professionalmente una serie di iniziative legata alla comunicazione istituzionale di cui poi magari parlò per un attimo e poi come dici tu nel corso della mia attività giornalistica in Rai dove sto ancora ogni tanto non me ne occupo in modo stabile ma ogni tanto mi capita di intercettare qualche amministrazione comunale e lì capire un po meglio come funziona la comunicazione ora più che una lezione secondo me che si può fare una somma di valutazioni su quella che è stata la comunicazione istituzionale tra l'altro mi faceva piacere ricordare il periodo che hai condiviso con Rutelli perché è stato un periodo particolarmente fecondo diciamo forse molti ancora oggi ricordano almeno la prima esperienza di Rutelli ma anche la seconda la prima in particolare come un anno di rinascita di rilancio di voglia di fare di dare a Roma un un volto nuovo io dico sempre che in quegli anni nasce una le ultime le diciamo le prime due amministrazioni di Rutelli e poi quella di Veltroni Veltroni e mezzo sono le uniche cose che si ricordano di questa città però io vorrei fare a volo d'uccello se mi permetti che ci aiuta poi a capire alcuni meccanismi della comunicazione una piccola rassegna brevissima di di alcuni dei sindaci che si sono succeduti e vedere un po' che ci rimane di questa esperienza che portiamo dietro perché solitamente poi quello che uno si ricorda è il senso delle cose perché spesso noi essendo immersi in questa foresta poi non riusciamo a vedere gli alberi e allora quando uno è dentro la polemica eh dentro le elezioni noi siamo usciti da una campagna elettorale che comunque è stata una campagna elettorale difficile particolare anche sul Roma con questi quattro candidati che ha dato un risultato abbastanza chiaro per la vittoria di di Gualtieri ma che ha anche segnalato questa difficoltà legata all'astenzionismo alla spaccatura che c'è stato anche in uno degli schieramenti che era quello di centrosinistra alla scelta di un candidato debole che era quello del centrodestra quindi veniamo fuori da tutta questa situazione difficile all'affermazione comunque di un outsider che era eh calenda e soprattutto al pessimo risultato del sindaco sciente che secondo me è un elemento che va sottolineato quindi noi siamo dentro a questa polemica e forse bisognerebbe uscire eh riuscire a guardarla con un po' di distacco allora con distacco io per esempio penso a un'altra svolta noi abbiamo parlato di quella di Trebelli precedentemente ma quella che ci fu con i sindaci i primi sindaci di di centrosinistra arrivati sull'onda delle vittorie del partito comunista degli anni settantacinque e settantasei che portarono prima Carlo Giuliargano un grande intellettuale che seppe dare un'impronta diversa a questa città e poi a un sindaco che qualcuno ama dire è stato il più amato dei romani io non lo so ma sicuramente è stato sicuramente il più amato in assoluto dai sindaci dai romani di sinistra che era Petroselli però proprio di quell'esperienza io ricordo poi quale fu la fine dell'esperienza importante di di Petroselli che fu la famosa nevigata a Roma e dietro la nevigata a Roma che cosa c'è sostanzialmente perché sai un po' di ritardi in una nevigata un sindaco non è che perde la giunta evidentemente c'era un locuramento precedente ma c'è anche una comunicazione che c'è stata su quelle vicende e quelle posizioni che hanno preso i giornali romani quando i giornali e qui già introduciamo un elemento avevano un peso completamente diverso un peso che non si è perso del tutto poi ci ricollegheremo anche con Marino dell'esperienza di Rutelli invece c'è stato questo fatto che ha voluto dare un'impronta diversa alla comunicazione io ricordo con piacere perché poi subito dopo andai a insegnare alla LUMSA che aveva la sede lì come quella che oggi è diventata Laura Magna della LUMSA dove c'era il cinema a Portacastello divenne il centro di informazione per il giubileo e lo andai a visitare proprio per vedere l'efficienza che aveva quindi immaginiamo quante informazioni girano intorno alla città nel momento in cui visto che noi siamo prossimi al giubileo anche qui a Roma quindi anche con la giunta Gualtieri e lì già si diede con il giubileo sotto la spinta di Rutelli un'impostazione ben organizzata e ci dice questo uno degli aspetti che dovrebbe fare la comunicazione perché sostanzialmente la comunicazione istituzionale ha due caratteristiche o uno comunica sostanzialmente ruota intorno al soggetto quindi uno comunica tutte le cose che riguardano il soggetto in sé però altra cosa importante è comunicare l'oggetto stesso delle cose che si fanno e quindi io credo che in quel momento c'era lo sforzo di fare questo però poi dirò una cosa alla fine della valutazione invece sul Veltroni che ha scelto ovviamente due caratteristiche fondamentali una era legata alle sue caratteristiche personali era molto conosciuto era entrato in comune da ragazzino era un leader politico era già stato vicepresidente del consiglio Comproti quindi assolutamente aveva uno spessore personale quindi molta della comunicazione delle giunte intorno al Veltroni erano legate intorno alla sua persona però ha pure capito che per comunicare e quello che resta probabilmente a distanza di tanti anni è utilizzare degli eventi pensiamo solo ai grandi concerti che poi non ne ha fatti più Roma con la capacità e la dimensione internazionale che ha avuto eh Veltroni però altre cose pensiamo appunto a quello che è stato tutto la festa del cinema anche le polemiche che ci sono stati con gli altri festival esistenti come Venezia e così via dicendo che oggi sono cose stabili ecco queste due giunte le giunte le prime due giunte di di Rutelli e le altre due di Veltroni una interrotta eh anticipatamente perché lui poi si è candidato contro Berlusconi ce lo ricordiamo sono state le ultime quelle che hanno segnato per ultimo una trasformazione di questa città e alcune cose ce le portiamo ancora adesso io cito sempre il fatto che per una vicenda dice varie vicende familiari abitavo andavo a lavorare in Rai e abitavo a Via Giulia e c'era l'imbuto il tappo te lo ricorderai bellissimo perché tu in quel periodo c'eri e l'idea di fare il sottopasso che poi è diventato un sottopassino per una serie di questioni di stabilità legate a Castel Sant'Angelo ma che ancora oggi i romani vivono e subito dopo quando mi sono trasferito ehm per problemi familiari per un periodo a Cortina d'Ampezzo anche lì gli imbudi e i tappi e poi è arrivata la galleria Giovanni ventitresimo per non parlare delle nuove linee della metropolitana ecco questi due sindaci hanno avuto la possibilità e il tempo anche con due mandati di dare un'impronta alla città e poi siamo arrivati al periodo Alemanno e la cosa di Alemanno è divertente perché a un certo punto si comincia a pensare sull'onda del successo di Berlusconi perché Berlusconi ha sicuramente impresso una svolta alla comunicazione pensiamo alla deontologia proprio al manuale che dovevano avere addirittura i giornalisti che lo intervistavano alla posizione che lui dovesse avere alla famosa calza ecco tanto per capire che veniva messa davanti alla telecamera per dare intorno a lui un alone e quindi con Berlusconi cambia la comunicazione e a un certo punto Alemanno si fa prendere diciamo da questa idea che tu comunicando in un certo modo risolvi i problemi strutturali perché una cosa dobbiamo dirla senz'altro che la comunicazione fa è utile è importante è importantissima anche oggi anche se molto frammentata però non risolve i problemi strutturali e poi lo vedremo arrivando fino alla raggi insomma Alemanno a un certo punto sta in crisi perché naturalmente non riesce a governare questa città in modo decente la sua immagine sbiadita capisce che di lì a poco perderà le lezioni se continua così allora chiama un mago della comunicazione dice a Crespi Crespi è quello che ha importato l'idea del patto con gli italiani l'aveva copiato l'aveva già fatto agli spagnoli lo suggerisce a Berlusconi Berlusconi va in televisione da Vespa e ti ricordi firma pubblicamente questo patto nei famosi punti che poi non li rispetta ma insomma in quel momento è stato uno degli elementi che ha preso molto eh le persone che sbandate dalla fine della prima repubblica non sapevano a chi affidarsi hanno detto ma questo è uno che però ci mette la firma ci mette la faccia e così via dicendo allora Alemanno convoca Crespi e Crespi gli dice guarda devi dare la sensazione che Roma sia tutto un cantiere devi far vedere che stai facendo un sacco di cose perché naturalmente l'errore di Alemanno all'epoca era l'immobilismo e allora lui si inventa questa cosa che andava in giro e c'erano tutti i contieri con questi striscioni che dicevano Roma fa Roma cambia c'erano tutte queste e la cosa più divertente è avvenuta sotto casa mia perché nel frattempo mi trasferisco a Piazza Cavour e per problemi professionali mi occupo anche di parcheggi e c'è questa cosa che viene installato a Piazza Cavour un contatore una cosa bellissima un contatore che segnava le ore i giorni le ore i minuti mancanti alla fine dell'anno dove sarebbe dovuto poi avvenire eh l'inaugurazione del famoso ehm parcheggio sotterraneo di Piazza Cavour io andai a visitare fu invitato come giornalista questa cosa ci fu un'inaugurazione pompa magna quindi Alemanno in testa vennero chiamate tutte le testate giornalistiche c'era la solita chermesse che si crea intorno a questi eventi e c'era questo contatore che scorreva tranquillamente all'imbocco della piazza a un certo punto io scendo con un ingegnere l'ingegnere della CAM un'altra società che realizza parcheggi non quella che ha fatto il parcheggio di Piazza Cavour e lui si guarda intorno vede com'era lo stato dell'arte e dice ma loro non ce la faranno mai a finire per la data che hanno indicato io dico come ce la faranno mai hanno messo il contatore ti pare che questi si spottano in questo modo è impossibile secondo me la tua poledraica adesso accelerano i lavori come va a finire questa storia che a due giorni ovviamente dalla scadenza quando ormai il contatore inesorabilmente si arrivava allo zero e doveva essere il momento della consegna ufficiale dei parcheggi il contatore sparisce lo prendono lo smontano e quindi per dire che con la comunicazione con le idee di comunicazione se tu non le accompagni a una buona amministrazione questa è l'altra chiave fondamentale della comunicazione uno ha l'idea che cura la comunicazione ha risolto i problemi dopo Alemanno ha avuto vita facile Marino e con lui c'è stata un'esperienza interessante devo dire inizialmente perché tutti i siti che si occupavano di Roma e lì già abbiamo un cambiamento nella comunicazione dove il web i social assumono una dimensione importante e Marino non si sottrae una cosa interessante che era il confronto con queste associazioni c'era Roma Pulito c'era ehm salva ciclisti c'erano cinque sei web c'era Riteik no e organizziamo degli appuntamenti fissi con gli assessori e poi con lo stesso Marino li facevamo alla casa della trasparenza ecco un altro momento la casa della trasparenza oggi passi lì e ti rendi conto che è uno spazio praticamente inutilizzato ci sono un po di pannelli buttati non si fanno iniziative per dire come poi la comunicazione di fatto non venga valorizzata sostanzialmente però Marino stesso è stato una vittima della comunicazione perché se da una parte tu devi utilizzare la comunicazione bene in modo positivo devi stare attento abbiamo parlato della nevigata a Roma di eh di Petroselli è stato vittima di una campagna denigratoria che è iniziata appena arrivato pensiamo solo alla storia della panda rossa alle prime pagine del tempo che pubblicavano ogni giorno una cosa contro di lui e poi la botta definitiva è stata questa deformazione giornalistica quella che io ritengo sia stata una deformazione giornalistica di grande impatto comunicativo ma non aderente alla realtà tant'è vero che i processi hanno dato ragione a un'impostizione diversa e c'è quello di associare il nome di Roma con l'espressione di mafia capitale a le grandi organizzazioni criminali abbiamo visto che a Roma c'è c'erano i corruttori c'erano i corrotti ma la mafia è un'altra cosa però l'espressione mafia capitale ha contribuito sicuramente una riduzione giornalistica di questa di questo meccanismo con l'espressione mafia capitale ha contribuito sicuramente a eh far cadere la giunta Marino che poi aveva dei problemi interni e questo lo sappiamo tutti non voglio eh elencarli qui venendo alla raggi per concludere questa eh rapido discursus sulla comunicazione e per confermare quanto da sola la comunicazione non basti la raggi ha fatto due operazioni sostanziali una è stata quella di utilizzare uno strumento divertente carino che era quello dei fumetti quindi innoviamo la comunicazione a un certo punto c'era questo personaggio eh disegnato un po' alla diaboliche no secondo il tratto che contraddistingue il personaggio delle sorelle Giussani che era un po' una una super virginia che doveva fare tutto eccetera però naturalmente questo strideva sostanzialmente con i risultati cioè se Roma era una città piena di buche sporca che anch'io sotto casa mia avevo i cassonetti eh straboccanti che all'improvviso vedevo piazza buia proprio perché nemmeno si riusciva a garantire un servizio di illuminazione pubblica tu puoi fare tutti i fumetti tutta la comunicazione di vuoi che vuoi ma non riesci e con lei c'è l'altro elemento quello di praticamente eclissarsi in qualche modo dalla comunicazione la raggia è stata quella meno esposta quella che è andata meno in televisione se ci andava ci andava in modo paludato e qui l'esperienza berlusconiana non l'ha aiutata nel senso che Berlusconi è stato uno dei primi che ha messo dei paletti per le presenze televisive e quindi io vengo in televisione e qui la comunicazione politica nel corso del tempo si è abbrutita ma si è abbrutita devo dirlo qui in modo autocritico anche grazie a noi giornalisti e operatori della televisione nel senso che a un certo punto il ruolo del giornalista con la schiena dritta che fa le domande difficili che mette in crisi il politico che comunque tira fuori dal politico le informazioni necessarie che stanno dalla parte della gente si è trasformata in quello che fa le interviste sempre più in ginocchio sempre più eh a Roma si direbbe a pecorino e quindi che non mette in difficoltà il politico perché altrimenti il politico non va quindi viene trattato prima addirittura il parterre delle persone presenti e quindi se ci sono altri politici o comunque altri politici a me screditi io non ci vengo se ci sono determinati giornalisti che magari fanno determinate domande io non ci vengo quindi la comunicazione è diventata una comunicazione asfittica io vado solo dove c'è un terreno abbastanza favorevo perché se no non mi presento e su questo devo dire la raggi è stata è stata una eh un'esperienza assolutamente devastante quindi tentativi di comunicare quello che non puoi comunicare ci dice fondamentalmente che la comunicazione deve riflettere la realtà nel senso che tu puoi anche darmi una fregatura e Berlusconi quello che dicevamo prima sul contratto degli italiani ha sicuramente eh in qualche modo seduto una grande platea perché poi è riuscito ad affermarsi come il leader in questo paese poi è riuscito a governare all'inizio credo solo sette mesi però poi devi dimostrare con i fatti che quella comunicazione non è non è sbagliata quindi eh che tu hai comunicato qualcosa di reale quindi è fondamentale che la comunicazione debba essere alla fine veritiera allora oggi si cerca di mascherare e di coprire dei difetti di di capacità di comunicazione attraverso dei meccanismi eh comunicativi purtroppo devo dire che l'esperienza di molti eh comunicatori eh sia a livello nazionale che a livello locale sono più legati a evitare che ci siano grane a evitare che ci siano problemi oggi sempre di più i portavoci i capi uffici stampa non sono coloro che come dire dovrebbero assecondare un meccanismo di trasparenza ma soprattutto di eh chiarezza e di eh appunto quella casa della trasparenza che doveva essere eh quella quando è stata pensata eh qui a Roma oggi il comunicatore colui che si occupa di comunicazione per istituzioni è uno che cerca di evitare grane è uno che cerca di parare i colpi è uno che cerca di arrivare in situazioni che siano più organizzate possibili purtroppo non è questo il senso della comunicazione io penso che se un sindaco e questo è l'ospicio è anche l'augurio è quello che mi piacerebbe che abbia in mente Qualtieri visto che è il sindaco di questa città e che bene o male anche se eletto da una minoranza di questa città rappresenta tutti e anche l'ambizione di rappresentare tutti deve sicuramente impostare la comunicazione in modo diverso se è vero che non so se ci riuscirà voler realizzare questa smart city questa città dei quindici minuti a grande identità eccetera queste cose le devi comunicare in modo chiaro e devi farti accompagnare passo passo da tutta un'azione di iniziative che sappiano eh far rendere chiaro ai cittadini che stai facendo questo io credo tornando ai primi due sindaci importanti a mio avviso che sono stati appunto a Rutelli e Veltroni paghino nella narrazione di questa città anche l'incapacità di comunicare io credo che rispetto ai traguardi a quello che hanno messo in piedi le quattro giunte di cui parlavamo prima sicuramente oggi nella città c'è una vulgata invece che non riesce a rendersi conto delle cose fatte io a volte per divertire vorrei rientrare adesso in comunicazione un'interruzione vero eh ok poi eliminiamo quei sindaci non avrebbero probabilmente avuto la narrazione che c'è stata probabilmente Rutelli non avrebbe perso al terzo tentativo probabilmente di Veltroni si ricorderebbero di più le cose importanti che ha fatto se ci fosse stata una comunicazione efficace purtroppo molto è stato affidato alla singola personalità del sindaco è vero pure che si veniva come dire sull'onda della personalizzazione della politica e quello ha dato un'importante svolta pensiamo agli scontri diretti no Rutelli vince sul filo di lana controfini all'epoca c'era una grande crisi politica rispetto alla prima repubblica e quindi la personalizzazione ha per certi versi pagato ma non ha pagato per quanto riguarda la declinazione di tutte le singole iniziative che hai fatto delle cose che hai fatto cioè oggi non basta più fare bene bisogna fare bene e comunicarlo bene e ultima cosa che dico perché non voglio dilungarmi oltre oggi la comunicazione non è più quella che abbiamo conosciuto nei decenni precedenti parlavamo dell'importanza dei giornali del peso che hanno avuto per esempio fino a a marino soprattutto in senso negativo oggi pensare che le testate giornalisti anche importanti in una città come roma ha due giornali grossi di peso ma sicuramente il messaggero pesa di più però anche dei giornali nazionali come repubblica il corriere della sera un altro giornale locale che il tempo che ovviamente non possiamo immaginare che non sia una spina del fianco della giunta Rodelli sarebbe impensabile immaginare un ruolo diverso che però può essere anche utile a livello di stimolo non diventa utile nel momento in cui le posizioni sono preconcette tu comunque anche se fai del bene devi parlarne male perché chi amministra il Campidoglio ha un colore diverso da quello a cui a cui tieni tu però i giornali sicuramente hanno perso il loro peso ha perso il peso anche la televisione perché oggi l'ascolto televisivo basta scorrere i risultati d'ascolto si è molto frammentato la televisione generalista non raccoglie più i numeri che raccoglieva fino a poco tempo fa l'avvento delle piattaforme la moltiplicazione dei canali hanno sicuramente frammentato il l'ascolto televisivo le televisioni locali sono praticamente sparite sono ridotte a piccoli confronti e piccoli ascolti che non non incidono e c'è stato lo sviluppo determinante sicuramente dei social e del web cosa che era impensabile negli anni in cui dicevamo noi oggi per chi vuole comunicare deve avere sicuramente uno staff che sia attento alla comunicazione sul web ci sono molti politici si affidano per esempio per la gestione di twitter a degli specialisti e così sul facebook io credo che un sindaco che voglia comunicare un sindaco 4.0 un sindaco che sia smart deve avere con i social un rapporto continuo purtroppo devo dire che segnali di cambiamento profondi da questo punto di vista non se ne vedono e nemmeno si vedono e l'ultima cosa che dico senz'altro degli inversioni di tendenza rispetto allo sfruttamento di delle potenzialità della rete e dei social no tu allora questi questi webinar che fai sono degli appuntamenti degli incontri tematici che possono approfondire che io posso ritrovare tra mesi e settimane che posso ritrovare tra anni che possa andarmi a rivedere e questa è un'occasione una possibilità che non c'era prima o uno assisteva in diretta un evento oppure dove aspettare forse che per qualche cosa usciva una pubblicazione cartacea ma anche lì insomma non aveva la velocità e diciamo la l'ampiezza di una library che ti può offrire oggi il web ecco io credo che la sfida del futuro per la comunicazione sia quello del coinvolgimento e della partecipazione che è un problema che va al di là della comunicazione ma sicuramente la comunicazione è una delle chiavi attraverso cui attivare la partecipazione perché ci siamo resi conto sempre di più che votare una volta ogni cinque anni per un sindaco ogni cinque anni per un parlamento non è equivale a partecipare la partecipazione l'attivi anche attraverso una forma di trasparenza una forma di attivazione seria sul web attraverso una forma di attivazione della serie sui social che è presto qualche anni non ancora dimostrato spero riesca a dimostrare presto grazie adesso ti faccio due è stato molto interessante questo questa storia della comunicazione ma non c'è stato rispetto alle ultime cose che tu dicevi anche un po il crollo di una vedendo sia la vicenda raggi ma anche ora dei cinque stelle a livello nazionale il crollo di un'illusione che in realtà proprio attraverso il web ai nuovi strumenti c'era quasi una nuova forma di democrazia eh che che poi avrebbe prevalso su tutto il resto ma in fondo come sono finite sia l'amministrazione raggi ma non sta dimostrando che forse poi tutto questo non è vero non vorrei contraddire l'ultima parte del tuo discorso un altro aspetto della comunicazione il rapporto tra l'amministrazione e cittadino che anche quello è una questione di comunicazione con il cittadino io penso che se c'è stata una cosa catastrofica è il rapporto proprio dell'amministrazione spero che cambi profondamente anche avendo nuovi strumenti come tu dicevi di di interfaccia così efficaci eppure Sandulli fa sempre l'esempio che una volta si andava dentro la circoscrizione o il municipio ti davano la carta d'identità adesso riprendere via internet duecento volte la puntata insomma non la riesci a prendere più oppure potrei fare mille esempi del in cui tu ne faccio un ultimo ci sono quattro pneumatici eh questa è simpatica perché è una cosa che mi è accaduta tre giorni fa dentro il condominio ci sono quattro pneumatici che non si sa da dove diavolo sono venuti fuori allora io chiamo l'amministrazione comunale e comincio a dire posso portare o mi dite dove posso portare posso la prima risposta che mi è stata data a rivolgiti all'ufficio mi danno un altro ufficio telefono un altro ufficio no l'amma non prende pneumatici non li può prendere li deve portare al meccanico che se li prende lui io vado dal meccanico il meccanico dice no a me se mi compri le gomme te le do se no io non me le prendo se no non te le do non te le prendo le tue te scompri le gomme io dico certo allora ritelefono dico guardi che il meccanico mi ha detto così dice telefoni a quest'altro ufficio telefono a un altro ufficio ovviamente dopo mezz'ora per prendere la comunicazione e quello mi dice no noi non ci occupiamo dico scusi eh dico voi siete comunque l'amministrazione comunale quel lama non le prende l'ufficio non mi ricordo che l'ambientale non le prende il il meccanico non le prende ma anche mi sta dicendo che la devo buttare nascosto dentro il cassonetto per le quattro come dice no io assolutamente non posso incentivare come fa a dire ho capito mi dica che ci devo fare con queste quattro come mi ha messo giù allora poi ci direi che fino hanno fatto le quattro come stanno ancora stanno ancora lì non si sa dove si possono mettere non si sa stanno lì e rimarranno lì allora è un esempio dico posso dare una mia opinione che senz'altro può contribuire nel mio piccolo a dire eh delle cose di tipo diverso perché io non ho mai subito la fascinazione dei cinque stelle devo dire che sicuramente rispetto alla legislatura che si concluderà insomma non molto eh credo che siano stati forse una grande delusione per molti italiani più di un italiano su tre credo abbia scelto di aderire a questa idea a questo progetto e poi abbiamo visto eh i numeri che sono stati impietosi ripeto un sindaco uscente che non raggiunge nemmeno la terza posizione tra quattro candidati di rilievo è sicuramente un tunfo enorme però devo salvare di quell'esperienza un'idea che è rimasta solo sulla carta e cioè l'idea che comunque attraverso la consultazione diretta degli iscritti che ha manifestato tutti i limiti che sappiamo perché abbiamo visto che in determinate condizioni le consultazioni avevano un quesito di un certo tipo e noi tutti sappiamo che se tu la domanda la poni in un modo ambiguo o non ambiguo oppure scegli di porla in un certo modo è già orientato il voto quindi quando si è scoperto anche il gioco che tu comunque al di là dei dubbi sulla garanzia del fatto che quella consultazione fosse una consultazione corretta e regolare ma non c'era nessuna autorità terza che potesse certificarlo era chi organizzava il la consultazione era controllore e controllante era una stessa persona quindi è chiaro sappiamo tutti che questo non è un indice di correttezza della consultazione detto questo ma anche nella costruzione stessa dei quesiti poi ci hanno voluto mettere la garanzia che il risultato fosse quello che probabilmente si aspettava chi ha convocato la consultazione però nonostante questi limiti l'idea che tu oggi nel 2021 con la potenza offerta dalla rete riesca a trovare dei canali nuovi delle idee nuove degli strumenti nuovi che ti diano la possibilità di capire anche in tempo reale o comunque insomma quasi in tempo reale l'orientamento delle persone secondo me è una cosa che va salvata secondo me è un elemento che deve richiamare tutti quanti i partiti in primo luogo perché vediamo la situazione della politica ma le amministrazioni soprattutto perché hanno quella di quella cosa e veniamo alla seconda parte del della tua domanda quell'elemento fondamentale di capire come ci si può orientare in una giungla di informazioni perché oggi veniamo bombardati dall'informazione molto spesso quello che troviamo non è la risposta a quello che chiediamo quello che tu dici è drammatico io ho una domanda una domanda semplice secca diretta dove metto le gomme da smaltire e un'amministrazione intera che non riesce a darti una risposta su questo e lascia quel condominio con le gomme per strada con le gomme all'interno del condominio è una sconfitta ovviamente dal punto di vista comunicativo e pratico poi so che adesso ci sarà un webinar anche sulla gestione dei rifiuti a roma che sarà la ripeterà i pari pari questa scena dalla noi ora e quindi speriamo anzi diglielo prima così si prepara se non pure lei è una figuraccia perché è indecente ma questo non capita solamente per le per i copertori è capitato spessissimo pure a me quando c'erano le domeniche ecologiche tu devi portare le cose a un certo parte presentare dice no questo non lo prendiamo quest'altro non lo prendiamo era una scelta tu andavi al mercato a vendere delle cose no voi dovete cercate prendere tutto non puoi promuovere questi appuntamenti che comunque hanno avuto una loro valenza quindi io dico che uno strumento che permetta di sentire su alcune grandi questioni anche l'opinione dei cittadini non è affatto da buttare al secchio direttamente per il resto in effetti oggi non questa trasparenza non c'è nella pubblica amministrazione se noi vogliamo delle risposte chiare molto spesso non sappiamo dove andare a finire ma questo succede in tanti settori non solamente con l'amministrazione comunale questo succede con le regioni con gli altri enti locali succede quando c'è un concorso pubblico c'è c'è una difficoltà e una vecchia impostazione nella nell'amministrazione nelle amministrazioni nella comunicazione pubblica che secondo me non ha ancora trovato sistemazione un'altra cosa che non ti avevo detto che invece mi sono ricordato il che volevo dire che nella mia esperienza ha pesato molto e che per anni per oltre vent'anni mi sono occupato di comunicazione sociale e organizzato sia campagna di comunicazione sociale e devo dire che gli anni 90 da questo punto di vista sono state un'esperienza molto seconda noi abbiamo recuperato un po adesso con la comunicazione istituzionale per quanto riguarda la vaccinazione cioè l'utilizzo di testimonia di personaggi che si mettono in campo oggi ancora a me arrivano gli spot e forse tra i più famosi sono quelli proprio per la raccolta dei rifiuti a roma quando ci fu negli anni di rutelli il cambio di passo arrivano i cassonetti in città io mi ricordo quando ero ragazzo c'era un signore con un sacco sulle spalle che saliva fino al quinto piano di casa mia e prendeva il sacchetto della mondezza lì e lo riportava giù quando tutto questo finì e fu sostituito dai cassonetti ci furono due pietre miliari della comunicazione una quella del famoso spot dei proietti che si mangiava sta fetta l'anguria sulla panchina te lo ricorderai e veniva piano piano progressivamente circondato dai cassonetti e lui alla fine diceva oh alla fine ce lo butto dentro state attenti era un paradosso e l'altro molto carino giocato dai giocatori della roma tra l'altro quello dello scudetto quindi con una capacità di trasporto di coinvolgimento notevole che penso all'altezza proprio del buco della serratura lì alla ventino improvvisano questa partita con una mattina che finisce ovviamente per fare gol che è dove fai gol dentro al cassonetto ecco questa comunicazione si è un po persa io per quanto riguarda le amministrazioni regionali e provinciali soprattutto mi sono occupato di comunicare contro l'abbandono dei cani d'estate per l'affidamento dei minori eh contro l'abbassamento del livello dei fiumi e dei laghi perché c'era un consumo idrico eccessivo quindi per il risparmio del consumo idrico eh comunicazione sugli anziani abbiamo fatto decine di campagne in quegli anni che hanno avuto anche un riscontro molto positivo ecco questa forma di comunicazione non l'ho più vista o forse come dire sono stato distratto io ho visto che c'è stato un abbandono della capacità invece di utilizzare dei testimonial di utilizzare la comunicazione televisiva per come dire orientare anche i comportamenti dei cittadini cosa che invece in quegli anni avevano un grande sviluppo grazie è stato molto interessante obbligatoriamente devo farti una una domanda finale eh tu sei un giornalista che ama l'inchiesta sei un giornalista di inchiesta no adesso a parte poi nel sito c'è il tuo curriculum che vuol vedere le tutte le tue esperienze la domanda che prossimo libro stai scrivendo se stai scrivendo un libro questo è un libro che è un lavoro che va avanti da da qualche almeno due anni che poi si è incrociato con la pandemia e che mi ha portato a passare un mese per la prima volta tra l'altro non c'era ma è stato in quel paese in argentina perché contrariamente a quello che tu hai descritto il giornalismo di inchiesta il giornalismo investigativo io mi sono quasi sempre occupato dopo un periodo lungo che mi sono occupato di disagi per la televisione della comunicazione ho cominciato a scrivere delle non fiction novel cioè dei romanzi basati su delle storie vere la prima è stata quella di giuseppe di matteo il bambino rapido dai corleonesi e poi sciolto nell'acido e poi ci ho messo manuela orlandi e poi serena mollicone e poi era gambirasio ustica le alpi tutte storie di questo tipo tra l'altro con cui stiamo parlando in alcune scuole di rome dove stiamo facendo dei seminari interessantissimi sul libro e quindi i ragazzi sono sempre molto attenti queste storie adesso ho cambiato completamente genere perché mi hanno chiesto di occuparmi della storia di una che di una donna donna importante che dovrebbe diventare santa questa donna è nata in argentina ha fondato una un ordine che è quello delle suore povere buone renzi di san giuseppe e con la sua azione semplice umile ha costituito in giro per il mondo una quarantina di case d'accoglienza di educazione soprattutto di assistenza verso i giovani gli orfani gli ammalati hanno fatto ha fatto una cosa molto importante quindi sono andato a conoscere un po' la sua opera lì in argentina perché è il luogo dove ne ha avuto di più ma ha aperto delle case in madagascar in canada negli stati uniti in spagna in italia la casa madre sta a genova e quindi sto finendo questa questa storia perché è la storia di camilla ron è una storia interessante e spero di finirla per i primi mesi del prossimo anno sono entro il gennaio di finire di scriverlo allora non vediamo di leggerlo magari di presentarlo grazie tanto pino e grazie a voi e auguri di buone feste e certo auguri a tutti